Caroli ha detto che stava a casa a guardare i ragazzini, io volevo stare solo con Sandro, parlare prima un po' con lui, da soli, a me è levato pure Diego, come faccio? E' un bordello, Toni, è un bottello vero. Neanche a farlo apposta, proprio adesso mi è venuta in mente una cosa molto creativa per l'antipasto, lo eliminiamo, bene, bellissimo, ma non solo per l'antipasto, ho un'idea creativa anche per il petto di portata, pensi potremmo chiedere ai commensari di portare dei contenitori, zucchi di trifolate, uova sode, insalata russa, qualcuno può portare la birra, qualcun altro ha del tè, tè freddo, pesca, limone, frutte di boffo, così abbiamo tutta la scelta. Senta io. Io non so perché abbiate perso tempo a venire a scuola tutti questi anni, una scuola che già di per sé non serve a niente, ma soprattutto per voi, venti, ventuno, quanti sei, no lo so, che mi vorresto parere siete le persone meno adatte a ricevere qualsiasi tipo di apprendimento? Non trovi che sia bellissimo? La campagna è quello strano posto dove i polli vanno in giro crudi. Come ha detto scusa? Baudelaire, ha detto Baudelaire.